ciao amici ed ix e sto games e benvenuti in questo nuovo video io sono michele questo è un piccolo blog che realizzo con la speranza di mettervi in guardia su una nuova truffa online che è venuta fuori nelle ultime settimane e che riguarda xiaomi il famosissimo marchio cinese che da circa 3 4 anni sta monopolizzando il mercato tecnologico di media e bassa fascia e ovviamente quando un marchio tanto successo ecco che nascono anche le truffe si è esattamente così nascono le truffe collegate a quel determinato nome in questo caso a xiaomi più nel dettaglio questa nuova truffa che sta circolando in rete che mi avete segnalato più volte in mail e lo sapete io cerco sempre di mettervi in guardia da eventuali truffe riguarda dei siti ora state molto attenti a quello che vi sto per dire dei siti clone dei siti originali ufficiali xiaomi.com e xiaomi.it quindi siti davvero molto simili nell'interfaccia nella grafica che vendono prodotti xiaomi vendono prodotti xiaomi quasi sempre smartphone dato che è la categoria di prodotto xiaomi più venduto alle masse li vende a con sconti che vanno dal 60 70 80 per cento quindi sconti davvero assurdi e purtroppo tanta gente ci casca questi siti nelle loro informazioni quando cliccate su chi siamo dicono di essere dei distributori ufficiali di xiaomi ma ovviamente xiaomi disconosce questi siti io li ho contattati tramite il form d'assistenza gli ho chiesto se questi siti fossero sicuri e le risposte sono quelle che leggete nella chat qui a fianco purtroppo però queste non sono truffe nuove e questi sono siti che nascono da un giorno all'altro magari tra dieci giorni vengono chiusi poi tra venti giorni esce nuovamente questo sito con un altro nome infatti ora si chiama www.siaomi.it finale trattino it punto com quindi degli escamotage per apparire più simili possibile al sito ufficiale di xiaomi per cercare di accalappiare qualche stolto ora ragazzi cercherò di spiegarvi come evitare di farvi fregare la prima cosa che dovete tenere bene a mente quando comprate da siti di questo tipo è la possibilità di pagare con paypal ad esempio il sito che vi ha appena detto non permette di il pagamento con paypal e quando questo non è permesso non significa che si tratti per forza di cose di una truffa però è un campanellino d'allarme quindi prestate molta attenzione siti che non permettono di acquistare tramite paypal ora anche amazon per esempio non permette di farlo e tanti altri siti però diciamo che siti di dimensioni più piccole come dimensioni quasi sempre accettano il pagamento tramite paypal che è completamente a tutela dell'acquirente ok e fino a qui ci siamo il secondo punto molto importante ragazzi è la partita iva il codice il numero di partita iva che deve essere sempre sempre riportato per legge nella home page solitamente a fondo pagina del sito da cui state acquistando e quando la partita iva manca ecco significa che quel sito non è molto in regola non solo siti che vendono in italia devono esporre la partita iva in home page o almeno nelle informazioni anche se per legge deve essere in home page ma anche siti che trattano segnalazioni di offerte coupon come il mio io infatti ho pubblicato la partita iva a fondo del mio sito perché è obbligatorio farlo e se non si fa si rischiano delle multe e diciamo che è un metodo per apparire trasparenti verso il cliente quindi se il sito da cui state acquistando non permette il pagamento con paypal non mostra la partita iva né nella home page Dove è obbligatorio metterla e nemmeno nelle informazioni ecco già da questo capite che non dovete acquistare da questo sito però c'è anche un terzo punto molto importante come vi ho detto questi siti nascono da un giorno all'altro chiudono rinascono tra dieci giorni magari quindi sono siti realizzati in maniera molto superficiale con l'intento di spillare il maggior numero di dindini di soldi di euro al ai malcapitati Questo comporta che questi siti abbiano spesso degli errori davvero grossolani molto spesso di battitura le offerte sono scritte male le informazioni hanno delle parti magari che non si capisce bene cosa ci sia scritto perché appunto sono realizzati un po in fretta e furia e spesso anche da persone che non sono italiane a volte da spagnoli stranieri insomma e quindi questo comporta che il sito abbia delle lacune grammaticali e già da questo ovviamente si capisce che il sito non è professionale e non è sicuro acquistarci e questi sono i tre punti fondamentali per evitare fregature da questi siti ragazzi se poi volete un ulteriore conferma fate come ho fatto io contattate l'azienda principale magari su facebook tutte le aziende oramai hanno facebook chiedendogli se quel sito è legit se è legale oppure no nella fattispecie questo sito show show trattino it puntocom Ragazzi in chiappetta cioè se cercate di comprare o vi arriva il mattone a casa o non vi arriva nulla quindi state molto attenti ragazzi quando acquistate da questi siti prestate sempre molta attenzione aprite sempre gli occhi se poi avete qualche dubbio ulteriore su un sito come questo che vi ho detto poco fa o qualsiasi altro sito io sono sempre a vostra disposizione sia nei commenti sia nella mia email che trovate le le informazioni del canale per cercare di chiarirvi schiarirvi le idee per quanto possibile ok e questo è tutto per questo blog spero di aver detto tutto spero di essere stato abbastanza chiaro se avete qualsiasi domanda da farmi su questo argomento io sono come sempre a vostra disposizione qui sotto nei commenti del video fatemi sapere se voi avevate già notato questo sito oppure no se magari siete già caduti in una trappola simile parliamone ragazzi condividete questo video se vi va a tutti i vostri amici per evitare che cadano a loro volta in queste truffe e se volete supportare questo canale come sempre un bel like commentate condividete e scrivetevi se non l'avete già fatto qui sotto in descrizione video trovate il link per entrare nel nostro canale telegram dell'offerta canale instagram gruppo facebook entrati numerosi questo è tutto la prossima ciao ragazzi e attenti alle truffe